tre porcellini decisero insieme di costruire una casa usarono carta legno mattoni fecero una casa ariosa elegante con porte scorrevoli come si usa in giappone poi invitarono il lupo e lo convinsero a mangiare sformati fatti con uova verdure e formaggi il lupo chiese di essere ospitato in una piccola stanza con una grande finestra restò tutto il tempo necessario per imparare a cucinare gli sformati grazie